Oh te, quella madonna, ma va ma prendi i tetti, figurati Tu che c'è? Mi sa che deve andare Uh sì sì Mi dispiace ma No aspetta ma non ho capito se deve andare Ma tu puoi riuscire? Ma te proprio per ricerche se mi senti in qualche modo Sì, io non un pochino, ma più che altro non capivo Guarda, già in serio mi sa che deve andare Oh madonna, brava Sì, io non un pochino Sì, io non un pochino Sì, io non un pochino Fra? Oh mi sento King e ho messo quelle la piccoline ho messo quelle piccoline dai veloce li fai entrare appunto non so perché io faccio la fine di troppo ne godi lo stiamo dicendo tra un'ora eh si tra un'ora ma perché? no lo stiamo dicendo tra un'ora tra meno una 13 e 39 e tre un'ora e lui ho detto 2v2 3v3 e lui ho detto quando dovete fare adesso? ma stanno così dicono fate più un'ora adesso no non fanno dopo non possono farla adesso? no 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 che brutto vabbè facciamocino a due frate facciamocino a due intanto ma è democrativa ma va bene lo sai perché voglio spiegare un attimo le regole ok Simo ho una cosa te la puoi chiedere? aspetta mi fai moderato peore tanto non esco più dai eh no devo aspettare devo fidare ti devo fidare fra viene nella mia live Simo ma non è che sei più forte e deve essere il capo? ha quitato viene nella mia isola fra anche in che senso che cazzo è allora l'ora di che cos'è? è l'ora del building costruiamo l'isola per il bike prendiamo il pavimento tipo stilisti quale prendiamo? l'occhio? ma io non so che prendi un cazzo prendi quello che vuoi ma cosa servono? scegli quello che vuoi non lo so non lo so e che ne so e che ne so prendo l'ora puoi fare quello che vuoi mi aiuti a farlo mi aiuti a farlo mi aiuti a farlo mi traccio molto qualcosa a me non sto capendo un cazzo aiutami a fare sti pavimenti per tutta la parte per tutta l'isola no l'ho fatto tante volte tranquillo non sono forte ancora perchè quando ero in questa cazzo questa cosa ce l'avevo anche nella cazzo nella cazzo l'ho abbandonato l'ho abbandonato l'ho eliminato calcio eh l'ho fatto col mezzo nero ah se dovrei che forse l'uomo cambiano l'ho sentito l'uomo 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 lo', l'uomo è l'uomo 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 no, lo stiamo finendo chi c'è? finito non pensare che avessimo finito qui? no, però devo andare a mangiare tra poco figa molto allora, abbiamo finito i palinetti? si beh, l'ultima cosa dobbiamo fare che cosa? eh prendere questo e fare con lì non ci vuole niente quale? quello che ho messo io agli angoli non metterli agli angoli non metterli agli angoli non ci vuole io si ho capito quale mettere quella young no ma guarda il telefono eh mi fai capire c'è la tipa che coltaccio lo fa ma che è questo? ma l'hai fatta su questa parte, sicuro? quale? ah, hai lasciato un bug non ci vuole ma porca troia che palle sto cosa ma stanno volando la trucca adesso ciò come spaccare tutto? no 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 non pensare male adesso faccio la cesta con tutto due due tre quattro cinque tre io mi faccio la mia cesta fra mi faccio la mia cesta sette otto nove no 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 ah ok la cesta intendo per il clavore ok e poi visto come è tipo un protection metti il cecchino silenziato metti il polto metti il cecchino silenziato tipo prototico poi il P90 mi ha messo tutto mi ha messo tutto e me ne so accorto si eeeh mi ha messo tutto guarda guarda stiamo mettendo tutto ok adesso sei pronto a vedere cosa c'è nella cesta e dai mettila non aprirla non aprirla non aprirla non scopriare trappone cosa face puoi fare un paico puoi fare un paico va ma che mostro fare eeeh metti cinque minuti va dieci minuti ah c'è il danno da caduta apri la cesta e ti spaga il gioco e la madonna eeeh io non so se tu la fai in partita questa cosa dov'è la deagle dov'è la deagle non c'è la deagle fra eeeh come sta a fare la deagle fra vabbè la deagle non c'è la deagle non c'è la deagle non c'è la deagle Fran c'è la deagle mi senti? si ma non c'è la deagle oh mi senti? mi senti? che soffè hoffè mi senti? c'è l'euro non c'è l'euro non c'è l'euro non c'è l'euro che soffè ma che soffè non c'è l'euro Oh, non c'era l'aticol Non c'era Sì, io sono andato Allora, mi dico il punto che c'era che se mi dici Allora, io non lo vedevo Guarda, guarda qua Dove? No Allora, guarda qua 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 Allora Allora Allora, guarda qua Allora 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 Allora